Teodorico di Freiberg. Teodorico di Freiberg fu un filosofo domenicano, studente a Parigi nel triennio 1275-1276. In seguito divenne maestro a Saint-Jacques dal 1293 al 1296. Morì poco dopo il capitolo di Piacenza, intorno al 1310. Teodorico di Freiberg si inserisce nella tradizione che viene usualmente detta Albertina. I suoi principali scritti di carattere logico sono il De origine predicamentalium, il De quidditate entium, il De natura contrariorum, il De magis set minus, scritti fisici invece sono il De tempore, il De elementis, il De luce, il De coloribus, il De iride, il De miscibilibus in mixto, De intelligentis et motoribus celorum, De corporibus celestibus, scritti psicologici e dedicati alla conoscenza sono invece il De intellectu et intelligibili, De habitibus, e scritti invece a carattere metafisico sono il De esse et essentia, De accidentibus, De mensuribus durazionis rerum, quod substantias spiritualis non sit composita ex materie et forma, De animazione celi. Scritti teologici sono poi la questio utrum in Deo sit aliqua vis superior intellectu, il De cognizione entium separatorum, il De subiectio teologe e le questiones de teologie all'interno di questiones de filosofia. Possiamo ritenere come primo scritto dell'opera di Theodorico di Freiberg il De origine rerum predicamentalium, che è del 1284 circa. In questo scritto il nostro autore discute del problema per lui fondamentale, per la fondazione del proprio filosofare, della struttura ontologica dell'esistente, in particolare della struttura ontologica dell'esistente così come viene colta nel campo della definizione. Per Theodorico di Freiberg è di primaria importanza investigare su quale sia il nesso e il senso del legame che connette l'intelletto che definisce e l'ordine delle cose che sono conosciute. Theodorico di Freiberg muove dalla convinzione che, a ciò che sia garantita la possibilità del conoscere, sia necessario verificare una delle seguenti condizioni. O il pensiero umano è definito dalle cose e dalla loro natura, oppure esse sono determinate dalla prospettiva essenziale dell'intelletto. Nella quinta sezione del suo testo De origine rerum predicamentalium, Theodorico giunge a asserire che soprattutto la seconda eventualità deve essere sostenuta, anche se limitatamente a certi enti rispetto ai quali ha funzione di principio causale. L'oggetto dell'intelletto non è la cosa individuale ut sic, ma la quiddità espressa dalla definizione è causata dall'intelletto secondo la ragione formale. La quiddità è da ritenersi distinta rispetto al fantasma, ossia l'universale immaginativo, così come viene generato dalla facoltà dell'immaginazione per determinare universali che sono agevolmente speribili nella realtà di tutti i giorni. La ragione quidditativa della cosa ne è invece la definizione, che è l'intelletto oggettiva in maniera spontanea. Sicché l'intelletto umano fornisce le strutture quidditative per la definizione razionale del mondo. Si può dunque dire che è proprio dell'intelletto che costituisce il mondo e che ne garantisce la conoscenza razionale e logicamente rigorosa. In tal guisa, per quel che riguarda l'elemento quidditativo, l'ontologia pare coincidere con la gnosologia. Si può dire, in maniera forse un po' radicale, che viene fornita dall'originalissima speculazione di Teodorico su questo punto e che non ha precedenti nella tradizione filosofica, che essere è uguale a essere conosciuto, o più precisamente, che è ciò che viene conosciuto. Per questa ragione il deliberà nella sua storia della filosofia medievale sosterrà che Teodorico di Freiberg è in qualche modo il fondatore della metafisica dello spirito, con chiaro riferimento all'idealismo tedesco e alla sua coincidenza tra ontologia e gnosologia. Dal punto di vista di Teodorico di Freiberg, come peraltro emerge limpidamente dal devisione beatifica, l'intelletto agente è mistico. Ciò vuol dire che non ammette mediazione estrinseca con il proprio divino fondamento. Anzi, con enfasi, Teodorico si spinge a sostenere la perfetta coincidenza dell'intelletto agente, che è principio intrinseco di vita e principio causale dell'anima, con il principio divino. Sicché il vero atto dell'intellezione è opera dell'intelletto agente e si spinge al di là della facoltà immaginativa dell'uomo. Facoltà immaginativa dell'uomo che, come si è detto, non procede oltre le intenzioni universali di senso ed uso comune. Dunque, con Teodorico di Freiberg, ci troviamo ad ammettere una conoscenza che è soltanto intuitiva e spontanea, non già astrattiva o discorsiva. La dottrina dell'intelletto agente, che in ultima istanza sembra coincidere con l'abditum mentis di Agostino, il ricettacolo di tutte le verità eterne, raziones eterne nell'accezione agostiniana, è dunque connessa la dottrina dell'illuminazione che Agostino aveva sviluppato e ha il proprio naturale svolgimento nella dottrina della visione beatifica. La coincidenza dell'intelletto agente con il suo divino principio garantisce una beatitudine che si estrinseca nell'unione con Dio nella sfera della contemplazione beatifica per essentiam. Teodorico si spinge anche in questo caso a una tesi radicale e dice che l'intellectus in actu per essentiam è l'esplicazione creativa e spontanea della totalità, la medesima che è già compresa negli intelletti in atto. Dunque, il problema della possibilità della conoscenza razionale universale viene traslato a quello massimamente teologico della beatitudine nell'aldilà. In tal guisa Teodorico può investire l'essere umano di una nuova dignità e può altresì spingere alle più radicali conseguenze filosofiche il tema dell'unione intellettuale dell'uomo con Dio. In tal maniera si può spiegare la creazione dell'uomo a immagine di Dio tramite un nuovo fondamento speculativo, quello delle possibilità insite nella dottrina della Imago Dei, che era la grande protagonista delle riflessioni filosofiche dei Cistercensi. Si può allora parlare di una scoperta della divinità e nobiltà dell'intelletto umano, che è Imago dell'intelletto divino. Per questo motivo la riflessione di Teodorico di Freiberg può essere avvicinata, almeno in parte, a quella di un suo contemporaneo, Meister Eckhart, che ravvisa nell'uomo nobile, vero nuovo fondamento antropologico del genere umano, l'uomo del distacco, colui che si è affrancato da tutte le cose create e dai loro fantasmi per giungere nella sfera dell'intelletto eterno. Accanto all'attività di teologo stricto sensu, Teodorico mantenne sempre un'attività di uomo di scienza e compose anche opere di grande rilievo, come il Deiride et De Radialibus Impressionibus. Teodorico diede una spiegazione scientifica del fenomeno dell'arcobaleno, che già aveva destato interesse presso Roberto Grossatesta, ma anche presso Ruggero Bacone. Teodorico riesce in effetti a spiegare che l'arcobaleno è l'esito della rifrazione della luce nel suo spettro di colori. benché Teodorico non fosse propriamente un fisico sperimentale e non avesse dimistichezza con le dimostrazioni scientifiche, la sua ricerca fu svolta con intenti scientifici e possiamo dire che si inserì pienamente nella sfera della tradizione albertina, tant'è che la sua spiegazione dell'arcobaleno era sostanzialmente corretta. Grazie. Grazie.